malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene nelle precedenti puntate ho parlato di questa riforma del mess che è una cosa allucinante ma oggi vi voglio dire la cosa che è più drammatica di tutto ciò ora vi ho spiegato in precedenti pillole perché il mess assolutamente è una fregatura per il nostro paese per i cittadini italiani lo è perché noi non possiamo portare a caso i soldi che abbiamo messo eventualmente in quel fondo e la riforma passerà ve lo dico subito ma la cosa drammatica è che la modalità con cui è stata fatta questa cosa è aberrante aberrante perché non c'è stato dibattito parlamentare non c'è stata informazione al Parlamento non c'è nessun giornale italiano televisione nazionale che ne abbia parlato in modo massiccio significativo nel corso degli ultimi mesi quindi arriveremo a una ratifica di un accordo fatto di fatto a porte chiuse nel totale silenzio della stampa nel modo più totale non trasparente certo ci sarà un dibattito all'ultimo giorno in quel dibattito si voterà l'operazione passa finita lì cosa mi trova allucinato l'articolo 35 l'articolo 35 della riforma di questo trattato prevede che ci sia l'immunità delle persone sì avete capito bene il mess la presidenza il consiglio la direzione generale i funzionari tutto il personale è scritto in questo articolo sono totalmente immuni alla giustizia a qualsiasi livello cioè non so se capite che cosa hanno scritto hanno scritto che c'è l'immunità totale assoluta insindacabile qualsiasi cosa questi privati facciano cioè la cosa assurda è che queste persone nell'esercizio delle loro funzioni quindi insindacabilmente possono fare qualsiasi cosa e non sono giudicabili allora questa cosa qua è una cosa di una gravità assoluta mai nella storia io ho visto che ci sia un superamento di quello che è stata il principio illuministico fondamentale cioè la separazione tra potere esecutivo legislativo e giudiziario stabilire che ci sia qualcuno al di fuori dell'organo giudiziario cioè stabilire da parte dei parlamenti obbligati dal potere finanziario che condiziona i governi e i parlamenti devono ratificare che c'è un organismo sovranazionale che non è giudicabile da nessuno da nessuno da nessuno significa una cosa di una gravità mostruosa significa che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge tolto il mess tolto sostanzialmente quelli che si occupano di batterie finanziarie per andare a salvare operazioni di tipo finanziario internazionale ora io penso che superare un principio illuministico di 200 fischi anni sia una cosa di una gravità che si commenti da sola buona economia umanistica malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene